Viva Marco Ciacito Pannella! Non si vincono le battaglie con il silenzio. Dobbiamo cominciare a fare ricircolare l'aria, perché il mondo là fuori cambia ogni giorno. Marco era questo, la sua testa e il suo corpo. Un'energia che non si può descrivere. Questo modo di porsi, di essere, era un'espressione di modalità politica. No all'odio, no agli insulti, no al mondo triste, torbo e cupo e violento. Tutto quello che noi facciamo per amore, per fantasia, per intelligenza, ha un'importanza tremenda. Romanzo Radicale, io sono Marco Pannella. Questa sera alle 21.20, Rai 3.